L'etame Adesso abbiamo deciso di trattare anche le defezioni degli animali con un prodotto che fissa l'azoto all'interno dei liquami. Questo prodotto diminuisce l'emissione di ammoniaca lavorando all'interno con dei batteri, dei microrganismi che si nutrono proprio delle sostanze all'interno dei liquami facendo sì che rimanga meno odore in esterno quindi bloccando quella che è l'emissione di ammoniaca che è quella che inquina e comunque porta problemi all'esterno fissandola all'interno fissandola all'interno per rendere più ricco quello che è il prodotto che vai a spandere nei campi. Gourmitpedia is an Italian food encyclopedia made by Gourmit a consortium of Italian producers See you next time!